Cioè ma non capisco, perché è saltato? E Tony Felipe? Non capisco, perché è saltato? Ma vorrei capire perché è saltato prima, porca puttana. Teobalda Endrenor mi ha saltato, sto schifoso malefico. Devo aver sempre sott'occhio il fatto che sto streammando, se no è un casino. Dai che vi scaldo il cervellozzo. Vi do... ...una scaldata al cervellozzo. ...un pozzo. Meglio Balda, fatti onore. Non ho capito, perché prima è saltato sto schifido. Porca puttana. Quattro ore di registrazione andati nel cesso. Quello la cos'è? Il solito Moonbark Ancient, va bene. Andiamo a fare visita dopo che però... ...ho riempito di botte per lui. Che mi ha rincorso dietro pure. Questa è Shadow Moon... ...Void Priestess. E adesso gli risuono anche la sua amica. La Void Thorn Spirit. Se salta ancora gli metto le manine sulla zucca. E non la smetto più. Non la finisco più di mettergli le manine in faccia. Dai Bartulot. Bartulun. Bartulot intelligentun. Guarda che intelligentun che l'è. E mi sputa anche quella roba di verde strana. Brutto schifido. E io ti luto. Ti sta bene. Ti ho lutato. Ti ho delutatio. La delutazione. La delutatio. Questo non è un... Si chiama uno che ha genti rari. Mio malgrado. Mio malgrado. Lo stavo dicendo prima quando anche stavo... ...registrando... ...che è arrivato... ...presto presto... ...il momento di andare... ...a pranzo. È arrivato il momento di pranzare. Essendo la 1 e 10 oramai. La 1 e 11. Un individuo... ...non decerebrato. Devi avere il tempo per... ...rifarsi. Ancora. Per forza se dormo davanti al video. DORRMENDO davanti al video. DORRMENDO davanti al video. DORRMENDO davanti al video. Succede ciò. I NEED A TARGET. I NEED A TARGET. I NEED A TARGET. Perché? Allora perché così... ...non va bene. Direi un uomo... ...un rimbambito. Perché se no... ...do fastidio... ...e con la voce così alta... ...do molto fastidio... ...e la cosa non mi piace. Devo... ...procastare... ...in maniera più... ...equilibrata. Devo equilibrare la mia... ...procastazio. Non posso permettermi di... ...procastare... ...facendo un casino del Cristo. ...perché si è abbassata la voce... ...per esempio di Teovalda adesso. No, non si è abbassato. Beh, Teovalda che sei vicino al 92. Molto bene. Va bene. È arrivato il momento di andare... ...a pranzo. Penso di... ...poter smetterla qua. Però... ...però... ...poveriggio... ...procasto... ...Teovalda e... ...vediamo se... ...procasto qualcos'altro. Arrivederci. Arrivederci.